Il settore era già in difficoltà e la pandemia non ha fatto altro che evidenziare i punti deboli di quella che fino a non molto tempo fa era la locomotiva dell'economia molisana. E questo è il senso della conferenza stampa di fine anno del lance Acem Molise. Nella sala conferenze di Assindustria il presidente Danilo Martino ed il direttore Gino Di Renzo hanno tracciato il bilancio di mesi difficili nonostante gli sforzi profusi dall'associazione con sullo sfondo però il nuovo anno e la rinnovata fiducia perché è l'edilizia a muovere l'economia non solo in Molise. Martino e Di Renzo sono convinti che nel 2021 ci saranno lavori e risorse capaci di rilanciare il settore in particolare grazie al contratto istituzionale di sviluppo. È stato un anno molto difficile per il settore delle costruzioni, abbiamo visto un forte blocco e poi una ripresa leggermente accentuata. Per il nuovo anno sulle prospettive abbiamo molta fiducia soprattutto sul contratto istituzionale di sviluppo che sicuramente vedremo appaltato durante il 2021 e come già sappiamo noi come associazione di categoria abbiamo interpellato sia il ministero sia il presidente del consiglio Giuseppe Conde che è l'amministratore delegato di Invitalia Domenico Arcuri ai quali abbiamo consegnato un documento dove chiediamo soprattutto la tutela del territorio la tutela dei nostri lavoratori, dei nostri dipendenti e delle aziende molisane che sicuramente verranno coinvolte in questo volano economico. Abbiamo chiesto anche che vengano utilizzate delle procedure di gara a tutela delle imprese molisane e di tutto il volano che gira intorno a questi flussi economici. L'associazione si è rivolta ai parlamentari molisani per rendere più snello e agevole il super bonus inserito nel decreto rilancio. Martino ha inoltre riportato l'esito dell'incontro avuto con il presidente della regione Donato Toma che ha assicurato lavori per circa 40 milioni di euro. ...dietro parliamo di referendum, parliamo di comunicazione, parliamo di problematiche nazionali questa volta non vi dico quali perché anche noi facciamo attività politica nelle segrete stanze. Senta, però se...